Salve a tutti, sono il dottor Ceniso Giampaolo e lavoro come psicoterapeuta e psicologo e in questo periodo ho avuto molte situazioni, molte più situazioni anche legate all'ansia dato quello che stiamo vivendo e quindi volevo intervenire e offrire un contributo per diciamo dare alcune informazioni che permettono di comprendere e gestire magari al migliore dei modi questa situazione in cui ci si può trovare. Ora pensiamo magari a una situazione appunto dove abbiamo un malessere, il malessere magari non è ancora molto chiaro e possiamo dire di avere ansia, molte persone lo fanno o addirittura l'ansia si può manifestare con forme molto più incisive come gli attacchi di panico. Quando il corpo si fa sentire produce delle reazioni che non riusciamo a riconoscere e anche collocare in quello che è normalmente il nostro stato e la nostra condizione abituale diamo spesso questo termine o usiamo questo termine come diciamo di attacco di panico. Anche questo a volte è molto improprio perché consideriamo avere a volte delle reazioni eccessive o molto preoccupanti quando a volte l'organismo giustamente può produrre delle reazioni dei malesseri e farsi sentire. Quindi dobbiamo anche cercare di nei casi in cui appunto si manifestano delle condizioni particolari di non allarmarci troppo. Ora l'ansia è legata al fatto di appunto non essere molto definita. Allora la prima cosa che possiamo fare quando ci troviamo in una situazione di malessere è quella di individuare qual è la nostra condizione, quale emozioni si stanno muovendo in quel momento. Il fatto di poter individuare le emozioni potrebbe già cambiare di molto la nostra condizione. Per esempio mi posso rendere conto che da quando l'altro giorno il mio vicino mi ha fatto notare che ho fatto una cosa che non andava bene mi sono agitato. Ah non ci stavo pensando. Nel momento che inizio a riconoscere questo potrebbe essere utile. Perché? Perché potrei dire ah probabilmente mi sono sentito sbagliato, magari mi sono sentito messo in discussione. La cosa mi ha fatto preoccupare, mi ha creato un timore, una paura oppure mi ha fatto arrabbiare. Nel momento che mette a fuoco questo probabilmente l'ansia ha già un altro aspetto. Quindi il fatto di riconoscere le emozioni e anche un po' rivisitare quello che ci è successo negli ultimi giorni potrebbe essere un modo per appunto trasformare l'ansia in qualcosa di più gestibile. Perché la rabbia è un'emozione oppure la tristezza. Iniziamo anche a dire quali possono essere queste emozioni. La paura, ma anche le emozioni positive, la gioia. A volte paradossalmente ci si può sentire a disagio provando una forte felicità. Perché magari non si è abituato a sentire quelle emozioni. Altre emozioni particolari possono essere magari il disgusto, il disprezzo, la vergogna. Ma è importante dirle perché dicendole è anche un modo di averle più a disposizione. Non ci si pensa. Magari io non mi sono vergognato mai in vita mia in quel momento mi sono vergognato e quindi è difficile che lo riconosco. Ognuno di noi ha più familiarità con un certo tipo di emozioni. Quindi ci sarà chi riconosce più facilmente la rabbia e meno la tristezza e quindi meno il pianto. Oppure viceversa chi ha familiarità con il dolore e la paura e meno con la felicità. Quindi bisogna un po' vedere anche cosa succede, cosa ci succede. Ma la cosa importante è che l'ansia prende molto spazio e diventa molto potente, diciamo così, quando non è appunto, quando rimane, come dire, viviamo una situazione che rimane vaga emotivamente. Quindi la prima cosa da fare è quella di riconoscere le emozioni. Un altro suggerimento che può essere importante, diamo la priorità a quello che stiamo provando. Possono essere più emozioni insieme. Per esempio, ah, sono arrabbiato molto, quindi metto la rabbia come un'emozione primaria. Poi nello stesso tempo posso essere deluso, quindi poi ci sta la delusione. Il fatto di creare una gerarchia nelle emozioni può essere già un suggerimento e può essere che questo lo possiamo fare anche con gli eventi che ci sono successi. Questa situazione mi ha fatto arrabbiare, quest'altra situazione mi ha preoccupato e possiamo fare anche questo elenco di eventi e quindi scrivere le emozioni che stiamo provando. E gli eventi che ci sono capitati e fare una gerarchia è già un modo di ordinare il nostro mondo interiore e quindi permettere all'ansia di essere gestita sicuramente meglio che se la viviamo senza nessuno strumento e senza nessuna comprensione.